Uomini e donne, ha quando le scelte? Maria De Filippi cambia idea Giorni fa si dava per assodato che Giulia Cavaglia, Angela Nasti e Andrea Zelletta di Uomini e Donne avrebbero scelto tutti lunedì prossimo. Adesso però Maria De Filippi e gli autori della trasmissione pare abbiano cambiato idea. . Difatti, come riportato sul blog Il Vicolo dell'Ners.it, il trio di tronisti decreterà con chi iniziare una relazione sentimentale in altrettante date, il 29, il 30 e il 31 maggio. Ma pure qualcosaltro potrebbe bollire in pentola. . Il portale ha provato a immaginare che questa svolta significhi che i personaggi di UID prenderanno una decisione in diretta. Questo perché quasi il trono classico e over quasi mai ha chiuso i battenti a giugno per le canoniche vacanze estive. . Uomini e Donne, cambio di programma per le scelte. . Sono passati ormai giorni da quando, mentre la puntata di Uomini e Donne si stava per concludere, Raffaella Mennoia annunciava che in giugno partiranno i provini dedicati alla ricerca di nuovi tronisti e corteggiatori. . Prime tappe del tour Milano e Catania. . A tal riguardo, sembra che qualcuno abbia finito per spacciarsi collaboratore del programma, offrendo provini finti, mandando su tutte le furie la storica autrice. . . In un video condiviso su Instagram, la Mennoia, oltre a mettere in guardia sul truffatore, ha letteralmente sbottato, affermando che non lavora con loro. . . Dopodiché lautrice di Uomini e Donne ha chiesto ai fan una cortesia, segnalare ogni attività sospetta riguardante i provini così che possano subito prendere provvedimenti. . Angela Nasti, in po' Luca Daffrè, ma spunta a un'altra teoria. . . . . . . . E a proposito di Angela Nasti molti credono che lascerà a mano nella mano il programma con Luca Daffrè. . 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 Gli indizi trapelati lasciano pensare alleventualità, tuttavia nelle scorse ore c'è chi accampa unaltra ipotesi. Quale? Dei telespettatori hanno indicato su Twitter di ritenere che Angela Nasti finirà per preferire Alessio Campoli date le insicurezze che prova. . Nella fattispecie, con un uomo come Luca Daffrè, la protagonista di Uomini e Donne rischia che la gelosia prenda il sopravvento, mettendo immediatamente in crisi il rapporto. . Alessio ha ancora delle possibilità con Angela oppure Luca Daffrè la spunterà comunque? Sul conto della Nasti l'ex pretendente Fabrizio Baldassarre ha rivelato che riponeva cieca fiducia in lei, perciò l'aveva presentata ai familiari. . Col senno di poi doveva andarci cauto, i non motivi dati durante l'eliminazione dimostrerebbero che non è una persona su cui fare affidamento. .